La questione cruciale della tecnica e del suo dominio Passo quindi la parola a Giacomo Pezzano Buongiorno a tutti Attraversare la questione prima di tutto a partire da uno sfondo antropologico Spesso i discorsi sulla tecnica e sul rapporto tra uomo e tecnica Hanno dato vita a una sorta di opposizione fra due fazioni Fra i tecnofobi e i tecnomaniaci I tecnomaniaci sono sostanzialmente coloro che vedono nella tecnica un destino annichilente E che distruggerà ciò che più di umano c'è nell'uomo Lo spirito, l'anima, i valori Dall'altra parte invece i tecnomaniaci sono coloro che vedono nella tecnica un destino allo stesso modo Ma questa volta un destino positivo, cioè liberante, emancipativo Queste due prospettive hanno appunto questo sfondo comune Cioè guardano alla tecnica come se fosse qualcosa che si impone Quindi qualcosa che è destinato a imporsi e che o schiaccia l'uomo oppure libererà l'uomo Credo che lo spazio che resti in mezzo a queste due fazioni è proprio lo spazio di mezzo che viene occupato dalla tecnica Cioè dal mezzo, quindi la tecnica anche solo intuitivamente come primo approccio è uno strumento, cioè un mezzo Questo spazio di mezzo è quello che secondo me può essere indagato se si parte da una prospettiva di antropologia filosofica Secondo la quale, per assumere due proposizioni a modo di spot, di slogan se vogliamo Da una parte la tecnica è l'essenza dell'uomo e dall'altra parte l'uomo è l'essenza della tecnica Dire che la tecnica è l'essenza dell'uomo significa fondamentalmente dire che l'uomo è l'animale per natura artificiale Quindi l'uomo è l'animale per natura tecnico, cioè che deve per natura trasformare la natura per vivere, sopravvivere e benvivere Per fare un esempio molto banale, il linguaggio, la capacità di linguaggio che è considerata a giusto titolo la facoltà che contraddistingue la natura dell'uomo rispetto agli altri animali E' sì una facoltà essenziale all'uomo che però ha bisogno di un processo di mediazione e di apprendimento per essere completamente sviluppata e padroneggiata Cioè di passare attraverso il rapporto con qualcosa, quindi questo passare attraverso proprio la dimensione del mezzo Tant'è che si appoggia alla scrittura, cioè al mezzo tecnico della scrittura che permette la piena appropriazione di questa capacità L'altra faccia della medaglia è che invece l'uomo è l'essenza della tecnica Il che vuol dire che chi pensa che la tecnica si autonomizza, diventa una mega macchina che procede da sé Dimentica cosa? Dimentica che la tecnica realizza, esprime, dei bisogni, delle esigenze, delle tendenze umane Cioè la tecnica è prima di tutto frutto dell'espressività umana Quindi chi pensa che la tecnica annulli lo spazio della responsabilità perché o lo schiaccia Oppure lo rende inutile perché fa tutto da sé, dimentica proprio queste due facce della stessa medaglia Che sono questo profondo rapporto di corrispondenza tra l'uomo e la tecnica Questo direi come spunto per la discussione iniziale Bene, passiamo la parola a Federico Sollazzo Grazie e buonasera innanzitutto Dunque io come direi che sono al tempo stesso in parte d'accordo e in parte in disaccordo Con quello che ha appena detto Giacomo Nel senso che sono d'accordo nel ritenere che la tecnica sia qualcosa di costitutivo dell'essere umano Che non è quindi un accessorio rispetto all'essere umano ma fa parte della sua stessa struttura di base Quindi l'uomo non ha la possibilità di scegliere se essere tecnico o meno Lo è, punto, non può farci nulla Però penso che rispetto ad esempio al modo in cui mi introducevo l'argomento Giacomo Cioè la distinzione che pure esiste tra i tecnofobi e gli amanti della tecnica Questa distinzione forse potrebbe essere resa non con un out-out ma con un tentativo conciliante Nel senso che la tecnica può essere l'una o l'altra cosa A seconda non tanto dell'uso che noi ne facciamo Questa è una cosa inflazionata Ma a seconda della forma storica che di volta in volta essa assume Ovvero, secondo me c'è una distinzione fatta a suo tempo da Marcuse Un po' accaduta nella dimenticanza Che invece sarebbe utile rispolverare Cioè quella tra tecnica e tecnologia Vedendo che la tecnica è la Qualcosa Quindi essere in possesso delle competenze necessarie per fare qualcosa La tecnologia invece è la forma storica della tecnica Cioè il modo in cui all'interno di un contesto storico Io direi anche geografico ben determinato Questa capacità di fare le cose si manifesta E ovviamente si manifesta in maniera diversa di contesto in contesto Perché facendo un esempio molto semplice Se la tecnica consiste ad esempio nella capacità di saper costruire una sedia Il processo di costruzione della sedia però Varierà di contesto in contesto A seconda del contesto storico e geografico All'interno del quale avviene la produzione E cos'è che rende attuabile un certo modo o un altro modo Di produrre la sedia Cioè cos'è che rende attuabile una certa tecnologia Lo scopo che noi ci proponiamo Nel compiere quell'operazione Perché se lo scopo è ad esempio quello di costruire sedie in serie Su scala industriale per poi venderle Il processo produttivo sarà impostato in una certa maniera Se lo scopo è quello di costruire una sorta di sedia Che sia un'opera d'arte Il processo a questo punto creativo direi Non produttivo seguirà un'altra strada E allora questo mi sembra molto interessante Perché a partire da questo Noi possiamo vedere che Quello forse su cui dovremmo ragionare non è solo la tecnica Ma la tecnologia Ovvero la forma storica che ha oggi la tecnica E chiederci quindi Qual è l'impatto sociale che ha oggi la tecnica Ovvero qual è la forma di tecnologia All'interno della quale noi oggi ci troviamo E ovviamente adesso procediamo per schematizzazioni Ma anche da questo penso che possano derivare Delle conseguenze interessanti Nel notare che la struttura fondamentale All'interno della quale ci troviamo oggi Che pertanto è a mio parere Una struttura ideologica Non è quella come abitualmente si dice Legata all'economia All'iper produttività All'commerciabilità e commercializzazione dei prodotti Riduzione della vita a prodotto commerciale e così via Ma al cuore della ideologia contemporanea C'è un discorso di tipo tecnologico Che poi oggi è declinato nella veste dell'economia Ma non per questo l'economia ne costituisce il cuore La tecnologia ne costituisce il cuore E in cosa consiste questo tipo di tecnologia Questo tipo quindi di mentalità che noi abbiamo oggi Nel muoversi attraverso le categorie dell'efficienza Della strumentalità Della calcolabilità Categorie che poi oggi sono declinate in chiave economica Ma che possono anche non esserlo Questo mi sembra che sia interessante da notare Innanzitutto perché dà conto del fatto Che non è vero che viviamo in un'epoca post-ideologica Ma siamo tuttora inseriti all'interno di un certo tipo di ideologia Che a mio parere non è di tipo economico Ma di tipo tecnologico E poi perché apre ad un altro discorso enorme Che è quello della metafisica occidentale Perché a questo punto la domanda è Come mai oggi abbiamo sviluppato questo tipo di tecnologia Che è fondamentalmente una tecnologia Per dirla all'Heidegger o secondo il linguaggio di primi francofortesi Una tecnologia di dominio Come mai abbiamo sviluppato quindi questa tecnologia Che è una tecnologia di dominio Questo ha a che fare con l'enorme questione della metafisica occidentale E in particolare il modo di intendere il tempo All'interno della metafisica occidentale Intendendolo in maniera progressiva e produttiva Cioè qualcosa che va in una certa direzione Quella direzione è la produzione di qualcosa La produzione a sua volta rimanda alla calcolabilità All'efficienza e così via E questo apre la strada poi alla situazione Nella quale noi ci troviamo oggi Che è collegata poi anche ad un altro discorso Che io trovo in un autore abitualmente un po' Sottoconsiderato in ambito filosofico Che è Pasolini E che ci ricorda come Gli educatori principali che noi abbiamo Siano gli oggetti Perché un oggetto non è semplicemente Un qualcosa che noi possiamo utilizzare A nostro piacimento Ma l'oggetto ci chiede di essere utilizzati In una certa maniera E allora se ci chiede di essere utilizzati In una certa maniera Fermo restando il fatto che io posso utilizzarlo Anche in un'altra maniera E tuttavia rimane Il fatto che lui mi chiede Di essere utilizzati in una certa maniera Allora questo vuol dire Che è anche depositario Di un certo tipo di razionalità Che mi comunica Quando entro in contatto con lui Ed è questo tipo di razionalità Strumentale e efficientista Che viene appunto Diffusa dagli oggetti tecnologici Che oggi sono Quelli prevalentemente Diffusi nella società Nella quale ci troviamo Allora Si tratterebbe Di Di precisare Questa Questione Della Della metafisica No In Heidegger La tecnica Sarebbe Il compimento No Di questa Metafisica La questione Mi pare Scivolare via Rispetto A quella Che è stata Sottolineata Da Giacomo Ovvero Quella della responsabilità Ma faccio gli esempi Concreti Allora Per un verso Un dettaglio storico No I forni del pane Sono fatti Per fare il pane Eppure Eppure È stata La trasformazione Di forni Per il pane A fare I forni Crematori Nei campi di sterminio E poi Questa questione Connessa A Heidegger Che Ha lasciato Testimonianza Non in vita Perché È in quella Intervista A Der Spiegel Che è stata Poi diffusa Dopo La Sua morte Su sua volontà Dove Non essendo Praticamente Mai intervenuto Citate I miei testi Nel caso E li vado Anche a leggere Sulla questione Della responsabilità Rispetto ai campi Di esterminio E del nazismo È La responsabilità Che l'Occidente Sia Finito Ad Auschwitz È data Ad la tecnica Allora Per questo aspetto È interessante Quello che dici Federico Perché Questa razionalità C'è Viva distinta Tra La razionalità Che porta A questo Compimento Della tecnica Nella Nell'industrializzazione Del massacro Che non è esente In aspetti Della società Oggi In modo Di Insomma Di Di togliere Questa Questa delega Che è fatta Alla tecnica No Cioè Io avverto Anche in questa Elaborazione Che C'è ancora Una Dirresponsabilizzazione Rispetto al fatto Che sembra quasi Per riprendere Ancora Una delle immagini Di Giacomo Che questa tecnica Sembra Una Mega macchina Autonoma Sembra Una macchina Impazzita Di cui nessuno Sappia più Che cosa fare Rispetto Al destino Del pianeta Quando invece Ecco perché Ho fatto l'esempio Dei forni Del pane Ma i forni Del pane Hanno un marchio C'erano delle persone Sono state contattate Per fare questa Trasformazione Si sapeva Cosa serviva Mi spiego Il chimico Panwitz Sapeva che Quando faceva L'esame A primo Levi Avrebbe deciso Se sarebbe morto Il mese dopo O se fosse andato Avanti Per qualche mese Ancora Con la scusa Che era All'interno Di un capannone Nel campo Di concentrazione E attorno A questa questione Della responsabilità Che vi pongo Un ulteriore Intervento Cioè Dove sta La responsabilità Qual è lo statuto Della responsabilità Rispetto A questa questione Del Presunto E in parte Vero Dominio Della tecnica Ma appunto Perché c'è l'uomo Dietro questa tecnica Ripasso la parola A Giacomo Allora Sì Abbiamo Diciamo Un 4-5 minuti Per ciascuno Prego Sarò Brevissimo Anche se In fondo È stato più Chiamato Direttamente In causa Federico Quindi Sul rispetto Magari A Heidegger Risponderà Direttamente Lui Mi Limito a dire Che Non Penso Che quello Che ho detto In partenza Sia in contraposizione Prima di tutto Con quello Che ha detto Federico Perché Proprio Questa Sottolineatura Della Relazione Che c'è Fra uomo E tecnica Secondo me Vuol dire Aprire la possibilità Di distinguere Fra tecnica E tecnologia Cioè Proprio perché La tecnologia È L'espressione Di un rapporto Storico O meglio Il rapporto Poi è sempre Storia La storia E la messa Il dispiegamento Dei rapporti Tra gli uomini Tra gli uomini E il mondo Quindi anche Tra gli uomini E le cose Tra gli uomini E la tecnica Per quanto riguarda La responsabilità Vorrei dire Una cosa Preliminare Che secondo me Proprio Questa messa Tra parentesi Dell'aspetto Di relazione Fra uomo E tecnica Cioè Proprio questo Separare Tecnica Da una parte Come Megamacchina Oppure Nel dire Che l'uomo È separato Dall'altra parte Perché avrebbe Non sarebbe Irreducibile A tutto ciò Che è tecnica Fa sì Che la responsabilità Venga meno Cioè Secondo me La responsabilità È qualcosa Di connaturato All'uomo Proprio Nello stesso senso In cui La tecnica È connaturata All'uomo Provo a spiegarmi In breve Cioè Il fatto Che l'uomo Debba Creare Dei mezzi Per vivere Fa sì Che debba Rispondere Attivamente Alle sollecitazioni Dell'ambiente E del mondo È proprio In questo tratto Originario Che sta La responsabilità Come capacità Di rispondere a E nel momento In cui Si pensa Che tutto ciò Con cui L'uomo Entra in relazione Sia separato Dall'uomo Stesso Che non esprima Dei bisogni Dell'esigenza Umana È proprio Lì Che la responsabilità Viene meno Quindi In questo senso È vero Che Uno strumento Tecnico Come Nell'esempio Drammatico Che ha fatto Giancarlo Il forno Per il pane Che diventa Forno Crematorio Perché Perché In qualche modo Ciò che Tutti Coloro Che hanno fatto Sì Che questo Che è stato Possibile Hanno Negato Quello Che doveva Essere Il loro Rapporto Con lo strumento Che gli veniva Posto Cioè Io credo Che in questo senso La negazione Della responsabilità Sia proprio Un sottratto A questa relazione Come dire Questa relazione Non mi compete Potremmo anche Fare l'esempio Dell'ingegneria genetica Delle nuove Tecnologie Esatto Tutti i problemi Bioetici Cioè Uno Rifiuta In qualche modo Il rapporto Cioè Rifiuta L'istanza Che viene posta E proprio In questo rifiuto La responsabilità È già sottratta Cioè Lo spazio In cui si potrebbe Decidere Per il bene O per il male È già sottratto Perché si rifiuta La relazione Si dice La tecnica Va da sé Risolverà il problema Oppure Ci distruggerà Però Va da sé Direi Basta Poi magari Se c'è ancora tempo Vediamo Di ridere Qualche Ma la parola Parlando Dico Sì Grazie Parlando Di responsabilità In senso stretto A me viene In mente Come riferimento Principale La banalità Del male Dell'Arendt Nella quale Proprio parlando Del caso Del caso Eichmann E del concetto Di male Andando alla ricerca Di quella Che lei Pensava poter essere L'origine Del male Radicale Arriva Alla conclusione Criticata Aspramente All'epoca E in parte Anche tuttora Che il male Tanto più Quanto è radicale Tanto più Quanto è forte È sprovvisto Di un fondamento Perché alla sua base Viene appunto Quella che poi Lei definisce Banalità E questa banalità È forse Nei termini Che usava Anche Giacomo Poco fa È l'assenza Di questo tipo Di rapporto Con l'oggetto Ad esempio Con il forno Nell'esempio Che faceva prima Giancarlo Però la domanda Allora Sempre rileggendo L'Arendt La domanda Che io mi faccio È Nel momento In cui siamo inseriti In L'Arendt La chiama Una struttura Sistemica Che è Ideologicamente Organizzata In una certa direzione Quella del nazionalsocialismo Lo era Da un punto di vista Politico Sociale E militare Quella attuale Lo è sotto Un altro profilo Ma in tutti i casi Sempre una struttura Sistemica Ideologicamente orientata È Allora All'interno Di questo sistema Esiste Ancora Ed eventualmente Dov'è Un margine Per recuperare La responsabilità Del rapporto Con il mondo Oppure Questo margine Ammesso che ci sia È Quasi Inesistente Nel senso che Per recuperare Il rapporto Con il mondo Io ho Necessariamente Bisogno di recuperare Inizialmente Il rapporto Con gli altri Che costituiscono il mondo Ma se gli altri Mi appaiono Come degli oggetti E oggigiorno In particolare Come degli oggetti Tecnologici Che è una cosa Diversa Rispetto agli oggetti Pre-tecnologici Allora Di fronte a me Non ho più Delle persone Rispetto alle quali Esercitare un rapporto Una responsabilità E così via Ma ho degli oggetti Comprensibili Attraverso Le categorie Dell'efficacia Della calcolabilità Della strumentalità E così via Tant'è che Eichmann Si diceva anche In un precedente Intervento Con Giancarlo Eichmann All'interno Del campo di concentramento Agiva con una mentalità Da manager Per lui La soluzione finale Era uno scopo Manageriale Oggi diremmo Da raggiungere I militari Del terzo Rai Che erano il personale A sua disposizione Per raggiungere L'obiettivo Manageriale In questione Questo è Qui c'è la Deresponsabilizzazione Ma Laddove Siamo inseriti In una struttura Sistemica Che ci priva Del rapporto Con gli altri Facendoci rintendere Oggi Con le stesse Categorie Degli oggetti Tecnologici Allora La responsabilizzazione La deresponsabilizzazione È quasi inevitabile Perché già A priori Siamo inseriti All'interno Di questo contesto Possono esistere Poi E a volte Esistono Personalità eccezionali Chiamiamole così Che pur trovandosi All'interno Di un contesto Sistemico Ideologico Riescono a non ragionare In questi termini Ma sono Le eccezioni Che confermano la regola Sì C'è una questione Che enuncio solo Perché appunto Il tempo È quello che è Per riprendere Rispetto A Heidegger Che ha formulato Diciamo La questione Del dominio Della tecnica C'è Questo aspetto Che riprendo Dall'intervento Di Federico La razionalità A cui accennavi Prima Mi pare Che ci sia Nella razionalità Occidentale La questione stessa Della Di responsabilizzazione Ed è curioso Come In che senso Ho accennato prima Alla non assunzione Della responsabilità Rispetto All'ingaggio Con il nazismo Di Heidegger E Che tra l'altro Accenno Che non se ne parla Spesso Che Fu invitato Nel 36 Con il viaggio Di Hitler A Roma E tenne Due interviste Una Era Proibito L'accesso Agli ebrei A Roma Il testo Di questa Intervista Io non so neanche Dove trovarla Nelle opere Complete Nelle chiesamente Verche Ora Come altre Piccole cose Che sono Sparite Ebbene E' curioso Dico Come La De responsabilizzazione Di Heidegger Pur Atea Pur Con l'apostasia Che c'è stata Ai vent'anni Vada A braccetto Con Il cattolicesimo Al quale Non ha mai rinunciato E' un certo cattolicesimo Teorico Da analizzare Di Carl Schmitt Cioè Entrambi Entrambi Attribuiscono La responsabilità A Un'entità Al di là di loro A Logos Che è lui La mega macchina Quasi Se direbbe E che toglie La responsabilità Paradossalmente Agli umani Allora L'invito L'invito è In quel che leggiamo In quel che Si scrive In quel che Scriveremo Di indagare Questa questione Su questa pista Non ho trovato Molti E mi pare L'ho citato Entrambi Che ci sia Giorgio Agamben Su questa via E poi Su questa via C'era In un modo Singolare Giacobbe Taubes Smith Acceno appena Smith Smith Ritiene Semplicemente Che siamo Nel Leone di tempo Che è venuto Con Cristo E quindi La battaglia È tra Amici E nemici La battaglia È con L'anticristo Oggi Sembrerebbe Un film Hollywoodiano Ma viene Mantenuta Questa lettura Teologica E Questo è L'apporto Di Taubes Che Invito a valutare Vorrei leggere Altre cose Attorno a questo Che insomma Heidegger Si sia messo Comunice Con i cannoni Contro San Paolo E abbia Cercato Di fondare Una Chiesa Laica Se si può Dire Con Sto Usimoro E quindi Come Questa Questione Della Teologia Politica Che c'è Anche Nel caso Dell'ateismo Sia Un po' Questa Cosa Che come Mentalità Oggi Mentalità Tecno Manageriale E su Questa Pista C'è Questo Giurista Psicanalista Che è Pier Legendre Con il quale Non sono d'accordo Ma va Assolutamente Letta La sua Via E quindi Una responsabilità Che Diciamo Aspetta Anche Alla Filosofia Rispetto Alla Lettura Di Sono Vari Immagini Di Seostate Qual è Questa Mano Tecno Manageriale Che c'è Che c'è Anche Nelle Scienze L'ha Detto Prima Già Come Mi pare Che c'è Nella Genetica Oggi In Tutto L'implicazione Tecnica Tecnologica Appunto Quella Che viene Chiamata L'ingegneria Genetica Voila Il Tempo È così Breve Se Un Minuto Per Ciascuno Una Cosa Da Dire Ancora Prego Giacomo Questione Enorme Poco Tempo Dico Due Cose Heidegger In lui C'è Anche Un Concetto Che Oltre A Quello Del Dio Solo Che Ci Può Salvare Che Quello Della Ghelassenheit Che Un Concetto Ambiguo Perché Effettivamente Può Essere Colto Cose Quindi Nascere Stare Tutto Quanto Aspettare Che Dio Intervenga Ma Allo Stesso Tempo Può Essere Colto Come La Capacità Di Entrare Attivamente In Rapporto Per Diciamo Lasciare Da Parte Quegli Aspetti Della Tecnica Che Non Dovessero Soddisfarci Detto Veramente In Modo Dozzinale Me Ne Rendo Conto L'altra Questione È Chiaro Che È La Prospettiva Che Solleva Anche Per Certi Versi Federico Può Richiamare Quella Di Una Sorta Di Mano Invisibile Che Rischia Di Non Lasciare Spazio Alle Mani Concreti Di Tutti Gli Individi Umani Ecco E In Questo Senso Sì Anche Agamben Costruisce Un Discorso Secondo Cui Il Paradigma Gestionale E Poi Lo Stesso Paradigma Della Teologia In Qualche Modo Quindi Scardinare Questo Cercare Di Indagare Questo Paradigma È Effettivamente Una Delle Direzioni Da Percorrere Filosoficamente Chiudo Per Federico Una Parola Solo In Un Istante Allora Quando Ragioniamo Su Una Ideologia Vecchia o Nuova Che sia Tecnologica o Meno Che sia Partendo Ad esempio Dal Contributo Heideggeriano A mio parere Dovremmo Smarcarci Un po' Da questo Perché Non è Essenziale Per quanto Bisogna Passarci Attraverso Ovviamente Vedere Qual è Stata La Risposta Con la Quale Heidegger Ha cercato Di Giustificare Il suo Ingaggio Con il Nazismo E quindi Tutto Quanto Il discorso Della Tecnica Ma Al di E Indipendentemente Dal fatto Che Ce l'abbia Proposta Quello Che è Interessante Invece Vedere Quanto Di Teleologico C'è Nella Ideologia Vecchia e Nuova Che Noi Viviamo E Questo Dato Della Tecnologia Rimane Anche Se Heidegger Non Avesse Detto Nulla Riguardo Il Suo Ingaggio Con il Nazismo Quindi Questa Tecnologia Tecnologia Alla Quale Accennavo Un istante Fa Anche Giacomo Che Va Indagata E Che Ha Che Fare Con Un' Indagine Ancora Una Vorte Inevitabilmente Su Quella Che È La Metafisica Occidentale Bene Io Ringrazio Giacomo Pezzano E Federico Sollazzo E Auspico Che Ci Sia Un' Occasione Più Avanti Per E Di Discutere Proprio Specificamente Di Questa Questione Della Teologia Politica Che C'è Anche Per Per Chi Pensa Di Non Esserci Diciamo Come Questione Grazie Grazie A tutti Buonasera Grazie